Ciao a tutti da Bruno, in questo mio video vi racconto quello che mi ha dato e ho provato le impressioni del vivo X-Shot, un telefono introvabile o quantomeno adesso è trovabile ma io l'ho preso circa ottobre, quindi era abbastanza introvabile, l'ho preso da un mio amico, che dirvi, è un telefono fantastico, parliamo subito di questo telefono, eccolo qua, vi faccio vedere i lineamenti, tutto quello che riguarda il design, vedete che è davvero un ottimo prodotto, vivo X-Shot, questo è il modello cinese, ha solo la lingua inglese adoperabile, altrimenti, a meno che sapete il dialetto cinese, è molto rifinito, vedete che comunque è un ottimo display, al tasto fotocamera, come vedete qua, questo fotocamera, tasto accensione, bilanciere del volume e questa bella fotocamera che lo differenzia da tutti gli altri smartphone, allora, parliamo subito, è un telefono che a me ha soddisfatto appieno, ha una ROM sua particolare, che è chiamata Fontouch, un sistema quindi sempre basato su Android, ma è un sistema proprietario della vivo, vivo in Cina è una delle più grandi, diciamo, aziende che fa stereo o wifi, non è l'ultima arrivata, come finiture è perfetto come peso, secondo me è un telefono normale, paragonabile a un G2, eccolo qua, a livello di, diciamo, finiture è un po' meglio, però più o meno ci siamo, io ho il mio amato G2 a sinistra e il vivo a destra, lo sto per vendere, il vivo, per passare a Xiaomi Mi 4 se lo trovo nero, altrimenti mi tengo il G2, che ancora è una bomba. Parlando del telefono vi dico subito che a me ha soddisfatto tantissimo, ha una fotocamera da paura. In questo video non ho tempo, diciamo, di farvi vedere tante caratteristiche, ma già l'ha fatto un mio amico, così chiamiamolo, un altro ragazzo, già diverso tempo fa, e quindi se voi cercate Vivo X Shot su YouTube troverete i suoi video sicuramente, perché ha avuto molto più tempo di me di fare questa video recensione. Questo è un video solo per farvi capire la bellezza del telefono, per un ricordo personale, perché comunque ogni telefono che compro poi alla fine voglio un ricordo e quindi faccio questi video, e per farvi capire che il telefono non mi ha mai creato problemi, l'audio in capsula si sente benissimo, la ricezione è perfetta. Con queste ultime ROM, sempre originali, che aggiornano giorno per giorno e mese in mese, va egregiamente. L'unico problema è stata la tastiera in cinese, ma quella l'ho sostituita con una che si trova sul market, Touch Panel. La cosa che mi ha soddisfatto di questo telefono, cosa proprio impossibile da trovare su altri, è la modalità manuale del telefono stesso, in scatto. Vi faccio vedere, ad esempio, prendiamo il robottino, questa è la modalità punta e scatta, col flash lo togliamo perché non c'è senso, ok, e facendo uno swipe verso sinistra apre una miriade di opzioni in automatico. Noi più o meno adesso andiamo a fare la stessa foto, spostiamo, vediamo, troppo l'iso alta o i tempi di scatto, ancora troppo, iso 100, va bene così. Ok, chi siamo. Ha una qualità fotografica superiore a tutti, non c'è un telefono che ha una qualità superiore secondo me. Sony, iPhone, c'è raga, stiamo a parlare da un telefono, eccola, vedete che effetto sfocato che riesce a fare, in modalità giustamente non automatica. In modalità, diciamo, normale, quella che tutti hanno, non è che fa schifo, però vedete che l'effetto, diciamo, di prima è qualcosa assurdo, è da reflex, voglio a dire, voglio a fare. Io, se era nero, questo telefono lo tenevo. Mi ha, diciamo, stufato il colore, perché è bianco, un po' troppo rivisto, il design non è il massimo, ha questi lineamenti grigi belli, però, a parte la fotocamera, io vi parlo anche della batteria, batteria soddisfacente appieno, anche se è 2006, io ho un G2 da 3000, più o meno la batteria, ci faccio le stesse identiche cosette, circa 4 ore, 5 ore di schermo acceso, ha questa più o meno luminosità, cioè come era impostato, in pratica, non 90%, ma più o meno siamo al 76-77%, ci faccio tranquillamente, ci arrivo a sera, inoltrata, con un uso abbastanzato, come dico, 4 ore di schermo, minimo, che dire, un telefono che ha delle caratteristiche eccezionali, ha questa applicazione che ci può permettere di impostare i launcher di default, così come il browser, così come possiamo bloccare un'applicazione tramite la password, a queste, dico io, scemenze, ma che poi non sono scemenze, ad esempio al fatto che rigirando il telefono e ritirando fuori, quindi il telefono dalla tasca, lui che lo capisce in qualche modo, adesso io non posso simularlo perché non ho una tasca, provo a tenerlo capovolto in giù, non funziona, comunque vi assicuro che mettendolo in tasca e ritirarlo fuori, lui capisce in automatico che è stato tirato fuori dalla tasca e si accende. Come accessori vedete l'auricolare, vedete anche il carica batteria cinesi. Che dirvi, è una mini recensionissima, proprio per farvi capire che è un prodotto eccezionale, soprattutto per la fotocamera, batteria, lo schermo identico al G2, proprio paro paro trapiantato del G2, non è, diciamo, smontabile, quindi comunque il problema della batteria, se finisce ve lo tenete, è 32 giga, ha un lettore sim micro sim, quindi un lettore anche SD card, quindi espandibile anche a 128 ad oggi, ha una chicca che non tutti i telefoni hanno, sempre parlando per la fotocamera, del flash, che se io scatto vedete che fa il flash, registra video in 4K, so serie varie, bene, qui finisce il mio video perché comunque non ho tempo, sto per andarlo a spedire e non mi sembra giusto far saltare la spedizione al mio amico Luca. L'ho risbollato dalla scatola, calcolate, perché non l'avevo fatta, la recensione è un minimo, diciamo, di impressioni personali, c'è da dire. Questa fotocamera è un po' troppo esposta, però ecco, se ci fate attenzione, diciamo, tutto sta da parte vostra all'attenzione vostra. Io non ho trovato nessun telefono, ad oggi è G2, G3, HTC M8, M7, OnePlus One, nessun telefono paragonabile a questo vivo. Ha un audio, come HTC M7 più o meno, non è, diciamo, come M7, ma più o meno ci siamo, perché quando loro fanno l'audio mi aspettavo qualcosina in più. Però davvero, ragazzi, è un telefono che se volete provarlo purtroppo non si trova in Italia, non mai si troverà perché per ora e penso per altro tempo non si troverà. Si trova a un prezzo di 4,90-5,90, su Brenovia.com si può acquistare, in modello che ho io, bianco. Che dirvi, è un telefono per pochi, secondo me, perché comunque ancora il root non si può fare, ci sono ancora delle anomalie per questi smanettoni, però le applicazioni funzionano tutte. Adesso hanno fatto una mini guida che funziona anche il Play Store, come vedete, ecco, non vi dico cavolate. Quindi abbiamo il Play Store, abbiamo le applicazioni, diciamo che utilizziamo Facebook, Instagram, tutte quelle sozzerie. Poi abbiamo un nuovo launcher che, diciamo, funziona abbastanza bene. Vedete che il telefono ha cambiato aspetto, è diventato un Android nativo a tutti gli effetti. Io lascio il suo poi decidere a Luca. Che dirvi, mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Se era nero era il telefono perfetto, che non avrei mai e poi mai venduto. Adesso passo a Xiaomi Mi 4 nero, speriamo che lo trovo. Un saluto da Bruno, vivo XShot. Un telefono veramente ottimo. Un telefono vivo. Ciao ciao da Bruno.